Bene amici, praticamente è arrivato Babbo Natale perché Amazon mi ha mandato da provare praticamente tutti i nuovi prodotti presentati qualche giorno fa. Si tratta di Echo Dot di quinta generazione, l'assistente vocale, l'altoparlante, quello piccolino, quello che costa meno. Cosa cambia? Qua il nuovo, qua il vecchio, lo vedete subito. Il display è a matrice di punti quindi può non solo visualizzare l'ora ma anche temperatura, meteo, canzone che sta suonando andando a scorrere il testo. Poi è migliorato molto e ho il vecchio non a caso così li sentiamo proprio a confronto il comparto audio. Ha un sensore di temperatura integrato, insomma migliora un bel po' così come migliora tanto l'Eco Studio. Il, come si può dire, altoparlantone di Amazon e qua fa veramente un salto spaziale l'audio. Non ho detto spaziale a caso perché lui ha proprio l'audio spaziale integrato ma rispetto a quello di vecchia generazione che praticamente aveva pochi medi, pochi alti, tanti bassi. I bassi sono rimasti praticamente uguali ma già spingeva tantissimo anche il vecchio. Ora lui suona veramente bene, promesso. Ve lo faccio sentire, poi altoparlante sotto 13,3 cm il woofer. Abbiamo due tweeter da 25 mm, due medi laterali da 51 mm più uno sopra per la spazialità dell'audio, sempre medio da 51 mm. Oltre al fatto che lui analizza continuamente i riflessi dell'audio e equalizza in tempo reale. E poi guardate qua la nuova Fire TV Cube di terza generazione. Anche qua cosa cambia? Sostanzialmente che c'è un HDMI in più, quindi ha un ingresso HDMI, può fare da pass through, quindi il segnale HDMI può passare a andare direttamente alla televisione. E poi ha un altoparlante integrato decisamente buono, non è più quasi obbligatorio andare a collegarlo a magari un altro Echo. Ovviamente va collegato alla televisione ma magari avete la televisione spenta e lui comunque può parlare. E poi il Kindle 2022, la versione base si rinnova, 6 pollici di schermo, leggerissimo. Ovviamente i ink retroilluminato a quattro zone ma vi posso dire che si vede veramente veramente molto bene. Ovvio, io aspetto Bramolo Scribe, quindi quel Kindle sul quale si possono anche prendere appunti con la penna. Ma questa mi sembra una buona evoluzione del Kindle base. Davvero davvero molto molto leggero, le solite 6 settimane di autonomia della batteria, ricarica in 2 ore e si può scegliere sia come in questo caso me l'hanno mandato con la pubblicità, sia senza pubblicità. Cosa vuol dire? Che quando è in stand by praticamente qua vi consiglia delle letture. In realtà quello senza pubblicità costa solamente 10 ore in più e non avete i libri consigliati. 109 senza pubblicità, 99 con la pubblicità. Ma magari sul Kindle coinvolgerò Chiara che è lei la Kindle dipendente. Adesso dall'applicazione per non andare a evocare, ah se no si evocherebbe tutto anche se è tutto in muto, vi faccio ascoltare il nuovo Dot5. Ovviamente con Gigi Dug. Tra l'altro vedete il titolo della canzone che scorre. Questo è il volume massimo e la cosa bella è che non distorce, gli alti sono buoni, mi manca forse un finino di voce e con un tap sopra possiamo volendo metterlo in pausa e con un altro tap far ripartire la musica. Ovviamente anche se suona la sveglia possiamo andare a mettere in muto con un tap sopra. Stai zitto Gigi Dug. Adesso vi faccio sentire quello precedente, sentite che differenza. Eccoci qua. Sentite come è tutto decisamente più impastato. Il volume è praticamente lo stesso però distorce decisamente più, praticamente il vecchio Dot si poteva sentire al massimo, al massimo, a due terzi del volume. Ma adesso butto su, vai, Eco Studio 1 che è lui, la stessa canzone. I bassi sono tutt'altra cosa, già suona abbastanza bene. Vi dico abbastanza perché ho sentito quello nuovo. Sentite cosa gli manca un po'. Tanto basso, ma i medi e gli alti sembra quasi un sub che è stato obbligato a riprodurre anche i medi e gli alti. Ma adesso vado qui indietro così c'è anche la voce e ve lo butto su quello nuovo. Eccoci qua, vi alzo il volume. Questo è il volume massimo e... Alexa! Stop! Incredibile! È riuscita anche a sentire il comando vocale. Segno che l'array di microfoni messo qua sopra sono veramente molto sensibili. Non sono riuscito a metterle in crisi anche con canzoni con tanti bassi, tanti alti, volume alto. Mi ha sempre capito, anche allontanandomi. E poi... Sentite gli alti? Sentite la voce? E i medi molto molto meglio. Ovviamente come la presente generazione direttamente da applicazione si può configurare tutto. Basta entrare qua nella sua pagina di interfaccia. Impostazioni audio, quindi alti, bassi, medi. Miglioramento della qualità stereo che va ad automatizzare anche l'equalizzazione, vi dicevo prima, in tempo reale. Si possono abbinare anche gli ecodot a coppie per fare l'audio stereo. Si possono abbinare anche al Fire TV Cube per avere una sorta di impianto 2.1, quindi molto molto versatili. Dentro rimane la possibilità di collegare apparecchiature smart perché rimane la tecnologia ZigBee e guardate qua telecomando eco perché gli si può associare anche un telecomando. Telecomando che però adesso io utilizzo per la Fire TV Cube che è migliorata moltissimo anche come velocità. Ma vai su Prime Video. Ecco Prime Video. Vai su YouTube. Ecco YouTube. Vai su Netflix. Ecco Netflix. Avete visto quanto è veloce e quanto capisce grazie proprio anche al telecomando che ha il microfono integrato. Ovviamente si possono usare anche i quattro microfoni array anche lì per capire dove arriva la domanda che sono presenti proprio sul corpo. Ma col microfono è veramente facilissimo e super veloce. Ma ovviamente possiamo anche non usare la voce, usare i tasti. Vi dicevo comandare altre apparecchiature infrarossi nelle impostazioni ma anche nel setup iniziale si fa veramente molto in fretta a settare. Si possono controllare mille altri dispositivi. Tra l'altro qua dietro c'è anche l'ingresso infrarossi per attaccare un sensorino esterno. Perché magari abbiamo delle apparecchiature nei cassetti o da qualche parte nascosta. Gli infrarossi non prendono. Si può mettere quel cavettino per andare a comandare anche quelle apparecchiature. Ovviamente per quanto riguarda la parte video si può attivare la duplicazione dello schermo. Cioè lui può fare da ricettore Miracast per smartphone. Se vogliamo fare una duplicazione sullo schermo. La qualità video arriva fino al Dolby Atmos a scendere. Quindi HR10+, HR10, HLG eccetera eccetera eccetera. E il mondo delle applicazioni ovviamente passa dall'App Store di Amazon. Però devo dire che ci sono tutte quelle principali dei maggiori broadcaster. Da NowTV, Disney+, da Sony, Rayplay, Discovery+, Infinity, TV Team Vision, Apple TV, Twitch. C'è veramente tutto e tutto si vede bene. Adesso mettiamo un... Devo stare attento ai diritti di copyright. Ma mettiamo qualcosa. 4K HDR. Vai vai mi faccio vedere giusto un pezzettino piccolissimo. Ma devo dire che la qualità video l'ho... Sì, la sono portata anche nel nuovo ufficio. Ma non ho ancora attrezzatura per fare i video. Provata con Sony OLED. E devo dire che l'uscita video è sicuramente di grande qualità. Ci mette l'unica cosa un pochino a raggiungere la massima qualità. Quindi agganciare il massimo streaming. Bellissima questa intro. Però una volta che aggancia la massima qualità di banda, la massima banda. È veramente una buona soluzione per vedere anche in alta definizione. Ok, dai, devo smetterla. Sennò mi fanno strike sul copyright. Anche il telecomando è ben fatto. Perché abbiamo le scorciatoie a Netflix, Prime Video, Disney+, Amazon Music. È C&C. Quindi vuol dire che può comandare direttamente anche la vostra televisione. sia al volume, sia anche tutte le altre funzioni, cambio canale, ingressi, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo, ma sì, dai, mettiamo Ed Sheeran di sottofondo. Ecco, in questo caso avrebbe avuto più senso collegare magari un EcoStudio di seconda generazione. Che costa sempre 199 euro. Quindi è rimasto invariato il prezzo. 59 euro l'EcoDot di quinta generazione, ecco, magari un po' meno, di quinta generazione. 69, quello col display. Prendete quello col display perché è veramente carino. Tra l'altro si autodimmera in base alla luminosità ambientale. La FRTV è 159 euro. Insomma, ottimi prodotti. Ovviamente nulla di innovativo, ma dei miglioramenti rispetto alla generazione precedente. In attesa dello scribe, mamma mia quanto mi scimmia. Fatemi sapere se volete approfondire magari qualcosa perché avendo tanti prodotti è stata una recensione magari un po' veloce. Ma il riassunto è ottimi miglioramenti su tutti i fronti. Ciao.